Sole Security e Technologies Sole Security e Technologies, in una nuova struttura elegante ed attrezzata, opera fornendo ad aziende e privati servizi di sicurezza sussidiaria non armata, racchiusi nelle attività di guardiania, portierato, accoglienza ospiti, security, receptionist, servizi antincendio e primo soccorso, monitoraggio aree, gestione parcheggi, custodia. Le competenze della Sole Security e Technologies sono in ambiti turistici, ospedalieri, congressuali, bancari, aree commerciali e industriali, centri di accoglienza profughi, fiere, porti, cantieri, GDO ed eventi in genere. Fondata nel 1963, si è specializzata negli anni crescendo professionalmente in considerazione delle varie problematiche di microcriminalità sempre più diffuse nell'ordinario. Lo staff, punto di riferimento dei servizi, è parte integrante dell'immagine aziendale regolarmente formato nella gestione della sicurezza. Inoltre, grazie ad un laboratorio tecnico, si offrono servizi di test tecnologici sulle ultime novità del settore. Difatti, è possibile valutare le performance delle apparecchiature e analizzare le innovazioni sul mercato. Lo Spy Corner, invece, espone tutte le tecnologie utilizzate. La Sole Security & Technologies progetta, testa, vende, noleggia, installa e gestisce sistemi di sicurezza GPS, oltre a microfoni, microcamere, sistemi di controllo a distanza per telefoni e computer, impianti di video sorveglianza ed allarme, effetto a bonifiche telefoniche, ambientali, autovetture, computer, sia per aziende che per privati. Sole Security & Technologies, uomini e tecnologie, un connubio vincente.